Un incontro con la Presidente della Regione Donatella Tessei a Palazzo Donini per fare il punto della situazione sul tema dell'incenerimento dei CSS nei cementifici. È quello che attende giovedì 2 luglio il Sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, che nel preannunciare l'iniziativa ha ribadito in una nota la propria posizione e quella della maggioranza. Stirati spiega che andrà forte del mandato del Consiglio Comunale che ha approvato una mozione dopo un percorso politico e programmatico sempre coerente e fondato sulla trasparenza e sulla verità. Il Sindaco di Gubbio ribadisce il suo forte impegno a tutela della salute dei cittadini e delle vocazioni territoriali della comunità, incentrate sull'ambiente, sulla cultura, sul turismo, sul paesaggio, sulle tipicità e riaffermate anche nella strategia dell'area interna in maniera non incidentale, non episodica, ma strutturale. Il tema dei CSS, sin da sei anni fa, sottolinea Stirati, è stato parte costitutiva del programma e ha inciso sul consenso riconosciuto da migliaia di persone libere, Non certo Sudditi, scrive, replicando indirettamente ad un post del WWF che ha fatto discutere nella giornata di ieri, in cui gli eugubini vengono definiti fino ad oggi alla stregua di Sudditi. Ho ricevuto l'investitura Sindaco dicendo con assoluta nettezza il nostro no all'incenerimento dei CSS e anche per questo non posso accettare che le persone che operano nelle istituzioni siano indistintamente qualificate in modo negativo, prosegue Stirati. Rivendico con convinzione la mia libertà e la mia indipendenza da qualunque condizionamento, ribadendo un impegno fermo e determinato a difesa della città, anche nell'ottica di favorire da un punto di vista amministrativo e istituzionale indagini sulla nostra qualità della vita, tesa a monitorare in modo serio e approfondito le condizioni dell'aria, della terra e dell'acqua. Si tratta, peraltro, ribadisce il Sindaco di Gubbio, di operazioni già avviate nel precedente mandato amministrativo, Stirati chiude auspicando modalità di confronto non divisive. Intanto, proprio all'indomani dell'Assemblea svoltasi alle CVA di Semonte, i comitati promotori hanno diffuso una nota di commento in cui altresì viene sottolineato positivamente il ruolo avuto dal WWF rispetto all'informazione sulla procedura semplificata richiesta alla Regione dalle due cementerie. I comitati, come annunciato nel corso della riunione dall'Avvocato Paola Nuti, che ha coordinato l'iniziativa, proseguiranno l'attività informativa nei confronti della popolazione, ribadendo la propria posizione di opposizione all'ipotesi di utilizzare gli stabilimenti cementieri per il consumo di CSS. Probabile la convocazione di un'ulteriore assemblea nei prossimi giorni per un convegno, anche per parlare di come la soluzione ugubina non possa fungere da chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione. I comitati hanno proposto più volte un piano regionale dei rifiuti basato sull'economia circolare e la strategia rifiuti zero, senza discariche né inceneritori.